La prossima sarà la settimana decisiva per capire le intenzioni di Iachini e i destini del Teramo, che come nella passata stagione a fine anno calcistico torna a riflettere sul futuro. Tra lunedì e martedì, giorno quest'ultimo più probabile, il presidente Biancorosso dovrebbe spiegare i prossimi step, ma pare che il bersaglio delle sue parole potrebbe essere il sindaco Gianguido D'Alberto come principale esponente di un'amministrazione che secondo Iachini non ha dato risposte soddisfacenti ai suoi bisogni. Esattamente come l'estate scorsa, quando il presidente del Diavolo tenne tutti col fiato sospeso prima della conferenza stampa lampo e dell'iscrizione al campionato ratificata in pochi secondi, quando molti avevano quasi perso le speranze. Ma se così dovesse essere martedì, vuol dire che chi si è avvicinato al Teramo non ha ancora dato l'affondo decisivo o comunque non c'è ancora intesa sugli equilibri che ci dovranno essere da qui in avanti, perché gli scenari sono tanti e tutti potenzialmente ancora possibili. Allo stato attuale, visto che nessuna trattativa si è davvero concretizzata, la prospettiva che si dipana davanti a Iachini è quella di una prosecuzione con le sue forze dell'avventura a Teramo. Questo ovviamente al massimo dirigente non sta più bene e senza un impegno dell'amministrazione per agevolare pratiche comunque molto complesse, diventa facile ipotizzare un organico ancora più ridimensionato di quanto non sia stato quello di quest'anno. Se da qui ad inizio settimana qualcosa invece dovesse muoversi tra Kim Dae-jung, peraltro accostato anche al Pescara, o il gruppo romano, di cui potrebbero far parte, secondo alcune indiscrizioni, anche persone che hanno avuto esperienze recenti nel mondo del calcio e della Lega Pro, allora l'iniezione di liquidità nelle casse bianco-rosse potrebbe dare respiro a Iachini e portarlo ad avere un rinnovato entusiasmo. Scambio di mail che c'è stato nei giorni scorsi e con una manifestazione informale di interesse che ha portato anche all'analisi del bilancio del Teramo per valutarne lo stato di salute. Certamente il ridimensionamento sarà un passaggio obbligato a prescindere, ma stando così le cose, e cioè con incontri e analisi, ma senza ancora nulla di concreto, Iachini sa che il 2021-2022 sarà un anno complicatissimo. Per quanto riguarda la prosecuzione della sua avventura, dunque, nulla è certo. Questo dipenderà da quello che accadrà, per questo giugno è un mese cruciale, anche considerando che il 28 è il termine ultimo per le iscrizioni alla prossima stagione.